Sanità A voi telespettatori ben ritrovati, sono 70 nuovi casi in Sardegna oggi. Il rapporto casi positivi tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività del 1,7%. Si registrano 5 decessi, i guariti oggi sono 140, mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 223. Sul territorio provinciale di Oristano si registrano 7 nuovi casi, a Oristano città si registrano 3 guarigioni e 2 contagi. Intanto i sindaci del distretto sanitario di Oristano sono pronti ad azioni clamorose. I dettagli nel servizio. Al primo posto la sanità pubblica, lottano uniti per difenderla. I sindaci del distretto sanitario di Oristano, stanchi dalla mancanza di risposte concrete alle tante emergenze dell'assistenza sanitaria, la settimana prossima decideranno quali azioni assumere per difendere un territorio da anni esposto a una crisi senza fine. Chiediamo unità a tutti, politici, sindacati, comitati, ordini professionali, ma è finito il tempo degli impegni espressi solo a parole. Occorrono atti concreti per invertire la rotta, restituire dignità al territorio e capacità di azione a sistema sanitario. Ha detto il sindaco di Oristano, Andrea Luzzo, che da presidente del distretto sanitario, stamattina ha riunito i sindaci del comitato, il commissario straordinario dell'Ares, Massimo Temussi, e il commissario straordinario dell'Ase di Oristano, Antonio Cossu, accompagnato dal direttore del Dipartimento di Prevenzione della TS, zona centro, Roberto Pugioni. Il commissario Temussi ha chiesto ai primi cittadini l'elenco delle priorità della sanità oristanese aggiornato sul piano delle vaccinazioni. Abbiamo inviato le libere, documenti, dossier, il patto della salute, abbiamo avuto incontri a Oristano e Cagliari, oggi ci viene chiesto di mandare un nuovo documento. Lo facciamo, è chiaro, ma la situazione della sanità a Oristano dovrebbe ormai essere più che nota a tutti. Quando la politica giunge a ricorrere alla magistratura vuol dire che si è arrivati al fallimento, ha aggiunto il sindaco di Sola Russa, Mario Tendas. Non è possibile che oggi ci venga chiesto una sintesi delle richieste per la sanità del territorio. Il livello di insoddisfazione dei civili è crescente e sta diventando preoccupante. Almeno dal 2017 il comitato di distretto dice cosa vuole esercitando i suoi compiti di indirizzo. Ha sottolineato il primo cittadino di San Veromilis, Luigi Tedeschi. Le linee di indirizzo rispetto agli ospedali e all'assistenza territoriale sono state espresse e sono note a tutti. Per il sindaco di Cabras, Andrea Abis, siamo prossimi al collasso. Francamente avevo qualche aspettativa in più della riunione di oggi, invece assistiamo all'ennesima delusione. Il commissario della ASRA, Antonio Cossu, ha preso atto della posizione dei primi cittadini e ha risposto alle sollecitazioni sui tanti temi sul tavolo. Sabato 27 febbraio alle ore 12.30 all'ospice di Oristano sarà consegnata l'auto van acquistata con fondi raccolti dall'associazione Comunque Donne, dalla Polizia di Stato e dalla Fondazione Dinamo di Sassari. La donazione del mezzo renderà più agile i capillari e gli spostamenti del territorio del team multidisciplinare per assicurare ai pazienti le cure palliative domiciliari. Alla cerimonia di consegna saranno presenti il commissario straordinario della ASRA di Oristano, Antonio Cossu, il questore Giuse Stellino e la presidente dell'associazione Comunque Donne, Maria De Logo. Cambiamo argomento, aumentano i pensionati, diminuiscono i lavoratori, i contributi e cresce il disavanzo per il sistema previdenziale. Sentiamo dunque Paolo De Sogus. L'evoluzione, o meglio l'involuzione economica e produttiva del Paese, deve essere seguita con maggiore attenzione, soprattutto in questo periodo di pandemia e che in profondità ha modificato condizioni economiche e sociali, comportamenti e modi di essere. Aspetti e problemi sanitari a parte, l'economia continua a segnare il passo e stando al rapporto itinerari previdenziali, 700.000 buste paga sono state cancellate dal 2019 al 2020 con l'emorragia lungi dal fermarsi, un dato che dovrebbe far riflettere e riguarda il fatto che nella previdenza il disavanzo è arrivato a quota 33 miliardi dai 20,8 del 2019, un gap in negativo dovuto alla diminuzione dei contributi versati, il segno di un Paese in crisi, con gli occupati che nel 2019 erano 23 milioni e 376 mila, nel 2020 sono calati di oltre 700 mila. Nel sociale i pensionati crescono di 100 mila unità, arrivando a toccare quota 16 milioni e 135 mila, grazie anche alle uscite con quota 100, pari a 267 mila unità in due anni. Per quanto riguarda le pensioni, il rapporto sottolinea che, mentre professionisti, commercianti e dipendenti privati le finanziano completamente, nei dipendenti pubblici la quota è appena sopra il 50%, i col diretti sono al 35%, gli artigiani salgano al 72% e i professionisti al tetto del 176%. L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato l'avviso per la concessione di un aiuto alle micro, piccole e medie imprese del settore florovivaistico dell'orticoltura, limitatamente quest'ultima alle produzioni di carciofo, asparago e verdure a foglia, e per le aziende di trasformazione del settore vitivinicolo. Gli aiuti sono finalizzati al ristoro delle perdite subite dalle imprese a causa delle limitazioni imposte per far fronte all'emergenza sanitaria in atto. La domanda deve essere trasmesse tramite via Pecca entro le ore 12 dell'11 marzo 2021. Anche quest'anno restrizioni per i riti di Pasqua. I dettagli nel servizio. La pandemia porterà ad una seconda quaresima e Pasqua con le restrizioni già viste lo scorso anno. Quindi niente lavanda dei piedi il giovedì santo, niente bacio della croce il venerdì santo, domenica delle palme solo all'interno dell'edificio sacro, sospensione delle manifestazioni di pietà popolare. Mercoledì 17 febbraio è stata pubblicata una nota del prefetto della congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, al fine di offrire alcuni semplici linee guida per aiutare i Vescovi nel loro compito di valutare le situazioni concrete e di provvedere al bene spirituale di pastori e fedeli nel vivere questa grande settimana dell'anno liturgico. Nel dettaglio. Durante la domenica delle palme, che ricorda l'ingresso di Gesù Cristo a Gerusalemme, ministri e fedeli dovranno procurarsi da sé ulivo o palma, non dovranno esserci consegne o scambio di rami, si dovranno evitare assembramenti. Giovedì santo, durante la messa vespertina della cena del Signore, la lavanda dei piedi sarà omessa. Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento potrà essere portato, come previsto dal rito, nel luogo della reposizione e in una cappella della chiesa. Nel rispetto della norma anticontaggio, i fedeli potranno fermarsi in adorazione ed a evitare comunque lo spostamento tra chiese, al di là della propria parrucchia. La veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti, come previsto dal rito, in orario compatibile con l'eventuale coprifuoco. Passiamo ad un altro argomento. 120 vigili del fuoco in addestramento per soccorsi in ambienti ipogeo in cavità sommerse. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Nelle giornate del 24 e 25 febbraio si è svolta l'esercitazione in ambienti ipogei sommersi che ha interessato 120 unità dei vigili del fuoco della direzione regionale dei quattro comandi sardi. L'addestramento si è svolto nella miniera di Reigragius, in località Marganai, nel comune di Domus Novas. L'attività era finalizzata all'addestramento periodico di otto unità, speleo dei nuclei di soccorso acquatico e subacqueo dei comandi di Cagliari e Sassari. Sono stati testati il sistema di coordinamento dei soccorsi e della struttura di comando dell'incidente, le tecniche di coordinamento dei soccorsi in ambienti impervi, le tecniche di soccorso in ambienti ipogei e su cavità sommerse, con attività coordinate tra il nucleo speleo dei sommozzatori e il nucleo SAF dei vigili del fuoco. Impegnato anche il servizio telecomunicazioni, che ha attivato un nuovo canale radio dedicato esclusivamente ai messaggi in entrata e uscita, tra sala operativa regionale, comando di Cagliari e posto di comando avanzato dell'esercitazione. Il servizio TAS ha testato le tecniche di geolocalizzazione e mappatura delle aree di soccorso. Ha partecipato all'importante attività anche il servizio sanitario regionale 118, con due equipaggi medicalizzati di Iglesias Carbonia. Hanno collaborato anche la società IGEA e l'azienda Foreste. Mercoledì 24 febbraio era presente anche il direttore regionale dei vigili del fuoco, Marco Frezza. Voltiamo pagina. Un premio per i comuni virtuosi nella raccolta differenziata del servizio. Un premio ai virtuosi nella raccolta differenziata, in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti, combinato a un sistema di economia circolare che permette ai civili e imprese di recuperare quanto versato per la Tari e di reimettere liquidità sul territorio. L'idea è stata oggetto di un incontro nella sede dell'assessorato degli enti locali alla presenza degli assessori regionali Quirico Sanna e Gianni Chessa, un progetto trasversale che intende coinvolgere il territorio, i cittadini e le attività economiche e produttive, ha dichiarato l'assessore Sanna, e a cui stiamo guardando con grande attenzione e interesse, un'iniziativa che potrebbe essere oggetto di un protocollo di intesa da presentare agli enti locali. Due principali obiettivi legati alla premialità della restituzione della tassa sui rifiuti, l'incentivo all'incremento del volume di raccolta differenziata e la ricaduta economica sul territorio attraverso un sistema di pagamento che vincoli la spesa alle attività economiche di un'area specifica. E passiamo ad un altro argomento. Tregua nella battaglia sui giganti di Monte Prama. Sentiamo l'approfondimento di Paolo De Souza. Tregua nella guerra di giganti e diplomazia al lavoro per stemperare i rapporti tra il comune di Cabras e la soprintendenza che con un atto d'imperio intendeva trasferire a Cagliere alcune statue e altri reperti per sottoporli al restauro nei depositi ricavati nell'area di Calamosca. Una intenzione contestata che ha obbligato il sindaco di Cabras, Andrea Abis, a emettere ben due ordinanze di chiusura del museo, vietandone l'accesso a chi che sia per ragioni di ordine pubblico. Le intenzioni della soprintendenza hanno sollevato una protesta popolare e istituzionale, con ampia ripercussione sui media, mentre nella delicata fase della nascita del nuovo governo e della nomina dei ministri, il sindaco ha attivato una interlocuzione diretta con il ministero e con il nuovo ministro Franceschini, che in quei giorni otteneva il reincarico dei beni culturali e si impegnava in una prossima visita a Cabras. Trattative di fatto avviato per ricomporre un livello di rapporti che devono conciliare le diverse esigenze, col risultato che anche la visita della soprintendenza e del suo staff programmata per oggi venerdì ha subito un rinvio adatta da destinarsi. Il Comune di Bauladu informa che è possibile presentare istanza per l'ottenimento del bonus sociale idrico integrativo 2021. Il termine a pre-presentazione delle domande è fissato per il 30 maggio. E questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Ora vi lascio alle notizie nazionali. Buon proseguimento. Grazie a tutti.